Vincere per spiccare il volo. Obiettivo chiaro per il Palermo che oggi alle 15 riceve la Ternana nella diciannovesima giornata di campionato. I rosanero vogliono dare continuità alla bella vittoria ottenuta domenica a Bari. È vietato però sottovalutare l'avversario. Giocare in casa per noi è diventato difficile perché abbiamo sempre trovato squadre che ci hanno dato del filo da torcere. Chi è un po' più chiusa, chi è un po' più alta. Abbiamo trovato sempre pochi spazi, questa è la verità e mi ha fatto più fatica, questo è vero. Però è chiaro che andiamo alla ricerca però non deve esserci ansia di prestazione, non deve esserci nervosismo, dobbiamo stare in campo bene. Cosa importante è fare bene le due fasi con intelligenza, con organizzazione e soprattutto con equilibrio. L'allenatore rosanero recupera Iaialo e Murawski, squalificati la scorsa settimana. È il quarantesimo precedente tra le due formazioni. Il Palermo fino ad ora ha ottenuto 14 successi, l'ultimo dei quali nel dicembre 2013, un dato che fa bene sperare per vincere e spiccare il volo.